ciao a tutti lei nuovo incontro nuovo amore che fosse interessato davvero nel risposto a questa domanda segue il video nel frattempo iscritto al canale seguimi sulla pagina instagram massimo per maschio iscritto al nuovo canale felicità benessere di tutti i posti link in descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali la carta 1 la carta 2 la carta 3 e la carta 4 concentrati concentrati su questo lui su questa lei del quale vuoi sapere concentrati su questa lei della quale vuoi sapere se questo nuovo incontro se sarà un nuovo amore dopo di che scegli la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 perchè scelta la carta 1 no sarà un fastidio che scelta la carta 2 si sarà un nuovo amore nascerà una nuova relazione con questa persona con un innamoramento reciproco che scelta la carta 3 se saprai stabilire una connessione mentale potrà essere un nuovo amore che scelta la carta 4 sicuramente sarà un nuovo amore anche con una relazione di coppia e di famiglia addirittura per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale felicità benessere di cui ti posto e link in descrizione ciao a tutti